Che cos'è l'arresto cardiaco, quali sono i fattori di rischio e quali sono le cause, che ruolo ha l'alimentazione per prevenirlo, ma soprattutto cos'è un defibrillatore e come può essere usato correttamente per riuscire a salvare una vita umana. Nella chiesa di San Nicola e San Giuliano del Sannio i dottori Maria Grazia Petti, Fabrizio D'Abbate, Antonio D'Alessio e Giuseppe De Matteis lo hanno spiegato ai cittadini durante un convegno per presentare il progetto Comune Cardioprotetto, un progetto a cui il sindaco Rosario De Matteis teneva molto, tanto da inserirlo nel suo programma elettorale. San Giuliano del Sannio è un paese cardioprotetto, ha detto. Ci sarà uno screening gratuito, periodico, proprio per prevenire queste malattie e in collaborazione col medico di base che terrà sotto controllo tutti i pazienti che dovranno essere osservati. Questa è prevenzione, noi siamo contenti di portare avanti questo progetto a favore della nostra comunità che è un paese piccolino e quindi vogliamo salvaguardare vite umane. I due defibrillatori sono stati posizionati, uno nella piazza del paese e uno al campo sportivo della dimostrazione pratica sull'uso corretto del macchinario, se ne occupata l'associazione Life A&D.